Ora andiamo a muovere l'altra parte. Vai in base, mentre lui avanza dopo la gamba, cambia. L'altra parte. In pratica dovrete, durante il suo passo, portare il pulino e il pulino. L'ideale è cercare di prendere o lucidare nel momento che è allezzato, che ha tutto il peso da questa parte. Se appoggio questa, è arrivato tardi, perché questa si scalpa. Forza! Ora questo si sposta veramente di un passo. Siamo uno di fronte all'altro e esce di un passo. Inizialmente potete spostare il pulino, perché non muovo più il destro, ma muovo sicuramente il sinistro. Ricordatevi, come prima, la stessa cosa dove cambio il legno. Quando appoggio il piede sinistro, il mio piede è tutto su di lui e sulla sua gamba sinistra. Inizialmente, lo descrivo deve essere dire a un passo con lui. Il tuo palco di giro, per l'altro. Un passo con lui. 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 ti ricorderò, quando ho colto il peso sinistro, tutto il peso deve essere sopra di lui. Lo devo prima appoggiare e poi agganciare. Porto, guarda!